Sì, sono i granelli alti, troppo caldo, sì, ora smetta, meno male. Una grandinata a pazzesco, una di roba, questi sono i picchi di grandine, questi sono le grandine, tutte le luci saltate, tutto buio, strada, lampioni ovviamente tutti ho, blackout, si vede nulla, qualche luce di autocarrivo, eh sì. Una volta almeno, l'altro cazzo è arrivato a venta, ma io sono preoccupato, ho visto venire al vento, che ha tutto tutto, no, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.